Cristiano, che dai un super beccia Marco! Ciao, sono Carlo, volevo dire che mi dispiace molto di questa scelta, cioè non sono riuscito a schiacciare il pulsante abbastanza in fretta, sì! Mi sento frustrato nell'animo. Marco, abbiamo lavorato, ti sono stati dati dei consigli, ci hai portato nel tuo mondo, noi siamo felici di averti in squadra con noi, in bocca al lupo ed è il meglio di te, facci entrare nel tuo mondo. Ce la metterò tutta. Quando ti sento la mia anima si espande, a tal punto di arrivare fino a te, ogni movimento tuo si unisce al vento, ed ogni passo fa rumore dentro me. Quando ti vedo per le strade mi domando, se un giorno avrò il coraggio di ammettere. Non posso trattenermi, sta scadendo il tempo, e quello che ho dentro sta per esplodere. Se come pioggia in estate, il sole d'inverno, una sorpresa incantevole, e il cuore è freddo all'impatto, ma si scioglie col tempo, sembrava intoccabile. Del passato se non dimentico, dei tuoi discorsi lì in mezzo al traffico, è arrivato il momento, dirti quello che sento, spero che sia lo stesso. Anche per te, anche per te, anche per te, anche per te. Marco! Complimenti Marco, bravissimo! Hai ricevuto quattro beige, quindi tutti i team. Grande riconferma del team giallo, quindi da Carlo. Io da questo momento attivo il super beige. È viss, è Cristiano, quindi si perde! Grazie. Che dai, un super beige a Marco! Ciao, sono Carlo, volevo dire che mi dispiace molto di questa scelta, cioè non sono riuscito a schiacciare il pulsante abbastanza in fretta, sì! Allora, quindi ricordiamo che Carlo così accede alla fase di sfide, quindi complimenti Marco. Grazie mille. Carlo, ti vedo molto arrabbiato. Devi essere più veloce, hai dormito? È già la seconda volta che mi rubano un talento e quindi mi sento frustrato nell'animo. Cristiano? No, io non mi sento frustrato per niente, anzi sono contentissimo. Goditi questa tua salute. Grazie Carlo. No, veramente sei arrivato tantissimo, parliamo di un artista completo, di talento, struttura emotiva. Grazie mille, grazie mille. Quindi veramente sono molto, molto contento che tu sia nella nostra squadra. Marco sei stato veramente bravissimo, quindi ti confermo che sei alla fase sfide nel Team Verde. Grazie mille. Allora buon lavoro col Team, grazie e buon lavoro. Un bocca al lupo, ciao!